Ciao a tutti, sono Jenna Ortega e sono l'attrice che ha interpretato Mercoledì Addams nella serie televisiva The Addams Family trasmessa sulla rete televisiva statunitense di streaming Netflix nel 2018. Mercoledì Addams è un personaggio immaginario protagonista della serie televisiva statunitense The Addams Family e di molti altri adattamenti cinematografici e televisivi. Nella serie televisiva The Addams Family, Mercoledì è una giovane e eccentrica ragazza che appartiene alla famiglia Addams, nota per il suo atteggiamento lugubre e per il suo amore per le attività macabre. Nella serie televisiva Mercoledì, che è stata trasmessa sulla rete televisiva statunitense di streaming Netflix a partire dal 2021, seguiamo le avventure di Mercoledì Addams da adulta, mentre lotta per mantenere il suo erede al trono del regno oscuro e affronta le sfide della vita moderna. Mercoledì è uno dei personaggi più amati della serie The Addams Family e il suo personaggio ha ispirato molti adattamenti e rielaborazioni nel corso degli anni. È stato un onore interpretare questo personaggio iconico e spero di aver fatto onore al suo spirito eccentrico e al suo amore per le cose macabre.